Quest'anno parte un nuovo progetto, un progetto che si chiama il progetto 5.0, che è un piccolo, uno schema operativo di quello che è l'idea, che solamente tramite rete network di competenze si può arrivare a risolvere problemi complessi, problemi complessi dal punto di vista tecnico e dal punto di vista normativo-administrativo. Questo lo abbiamo fatto cercando di unire 5 società che ognuno per i suoi settori aveva delle competenze e fondamentalmente riconosce l'uno nell'altro la piena qualità, fiducia nello sviluppare delle attività in maniera comunità. Siamo un network informale, quindi indipendente, proprio per non appresentire neanche la struttura e partiamo quest'anno, anzi questo è il ruolo di kickoff per la data formale, anche se abbiamo già esperienze di lavoro da alcuni anni assieme.